Cari amici, l'unica cosa che vale la pena oggi di leggere è l'articoletto in prima pagina di Gramellini sul Corriere della Sera. Si intitola Siamo Fritti. Lo dobbiamo leggere, lo dovete leggere tutti e quindi oggi ve lo leggerò, perché così capite perché il giornalismo italiano fa schifo. Perché siamo completamente scollegati dalla realtà, cioè non riusciamo a capire quello che avviene. Pensiamo che la vita sia quella delle nostre redazioni, sia quella di Fazio, sia questa... come possiamo dire? Ma ve lo leggo. Tra i vari progetti di alternanza scuola e lavoro, scrive Gramellini oggi, in un liceo scientifico di Ravenna dieci ragazzi hanno scelto di servire i tavoli di McDonald's. Va bene? Non ho nulla contro la nobile mansione del cameriere, dice Gramellini. E riesco persino a digerire con l'ausilio di tre Alka-Seltzer l'idea che il lavoro di un apprendista non venga retribuito. Mi sfugge il nesso tra gli studi scientifici e gli hamburger, probabilmente la storia è piena di matematici che a 16 anni friggevano patatine. Ma questo è il punto di rottura. Se quei dieci potenziali ingegneri lavorassero gratis presso un falegname, un cuoco o un barbiere, aspettate, penserei che stiano impiegando il loro tempo libero per apprendere i segreti dell'artigianato. Saperli invece entusiasti regalare le loro energie ad una multinazionale, che date le sue dimensioni planetarie, non può che offrire lavori standardizzati e considerare i dipendenti dei numeri intercambiabili. Mi fa capire che quei ragazzi ragionano in modo diverso. Va bene? Continua, considerano più gratificante servire i tavoli di un ristorante seriale di McDonald's piuttosto che quelli della trattoria a conduzione firma familiare sotto casa. Allora, il tema è il seguente. Gramellini pensa di vivere in un mondo in cui tutti hanno la sua fortuna, di non aver probabilmente essere entrato in un giornale, aver fatto poco praticantato, non aver fatto nero, non aver mai fatto un lavoro di merda, e pensano che tutti quanti possono fare questa grande carriera. In realtà, purtroppo, non è, non è, non è così. Quando un ragazzo da 15 o 16 anni vuole andare da McDonald's a lavorare, si è semplicemente messo nella condizione di capire che il mondo è fatto anche di lavoro, che per lavorare, che lavorare non è una cosa semplice, che bisogna capire come funzionano gli orari, come funzionano i capi, che schifo è subire tante volte a qualsiasi livello le pressioni del proprio capo che ti chiede cose incredibili. Non voglio fare la morale del lavoro, non voglio fare la morale di McDonald's, non voglio dire che io i panini di McDonald's me li mangio anche senza alcasezza perché costano 3,50 euro e non costano 25 euro, come lo slow food o come cacchio si chiama abituato a lavorare, a mangiarsi gramellini dove non c'è bisogno dell'alcaseltzer. Ma io dico un'altra cosa, dico ma come si fa, come si fa ad avere questo atteggiamento snobbistico nei confronti di 10 ragazzi che bravi, sacri, santi, bravissimi, minoranza, vogliono fare un lavoro non retribuito, perché il lavoro è non retribuito a 16 anni, forse potrebbero anche non lavorare a 16 anni, potrebbero studiare, potrebbero fare altre mille cose, insomma invece di dirgli ragazzi avete scelto di vedere che cos'è il mondo del lavoro, puoi ritornare a studiare, puoi magari fare il falegname, fare l'artista, fare il googelare, fare quello che ti pare? No, bisogna essere indispettiti perché lavorano per la multinazionale. Vorrei segnalare a gramellini che lui lavora per una multinazionale quando i suoi articoli vengono visti su Google o vengono postati su Facebook, questo è un altro lavoro che forse sarebbe indignitoso per questi ragazzini, cioè il tema fondamentale è lo snobbismo di quelli che alla loro scrivania, con i loro 300.000 euro guadagnati da Fazio, 300.000 euro guadagnati al Corriere Sera, meritati perché io non ho nessuna, come possiamo dire, invidia sociale per chi guadagna tanti soldi, benissimo, se si li guadagnano dicono ma questi ragazzini che vanno a lavorare da McDonald, un'orrenda multinazionale, potrebbero lavorare alla trattoria sotto casa? Eh, io, potrebbero lavorare alla trattoria sotto casa, mi viene veramente, come posso dire? E poi questa idea, ah, perché l'apprendistato io sono, come possiamo dire, sono indignato che non venga pagato? Certo, perché tu, Fazio, e tutti voi siete pagati dai contribuenti, è chiaro che da voi è possibile essere retribuiti generosamente perché sono i contribuenti che vi pagano indipendentemente dai risultati che fate, diciamo la verità. Invece, purtroppo il mondo non funziona così. Io oggi, la pagina di Gramellini, l'ho trovata proprio il segnale che i radical chic in Italia, che è un brutto termine perché ricorda il passato, i radical chic sono vivi, vegeti e, come dice lui, totalmente fritti. L'altra cosa che mi ha divertito oggi sul giornale è lo spesometro. Lo spesometro è una cosa che ormai è tristemente famosa perché è una delle complicazioni fiscali introdotte al governo Renzi. Cioè, noi dobbiamo comunicare le nostre spese ogni tre mesi invece che farlo alla fine dell'anno quando facciamo la dichiarazione dei redditi. Va bene? Questo spesometro, diceva, ha una situazione, ha una possibilità di essere comunicato via rete attraverso un sito dell'Agenzia delle Entrate. Questo sito dell'Agenzia delle Entrate, quando si metteva il codice fiscale di una persona qualsiasi, faceva vedere a tutti quanti le proprie spese. Quindi c'era un tema di sicurezza delle informazioni, oggi si dice di privacy, perché io potevo vedere le spese di Tizio e di Caio. È stato quindi chiuso per qualche giorno, poi dopo è stato reso di nuovo aperto. Ma ieri hanno provato i commercialisti a mandare le loro comunicazioni e il segnale era file scartato per tutti quanti. Migliaia di commercialisti hanno perso il loro tempo, nel frattempo ci sono le sanzioni che sono state rimandate di pochi giorni. Insomma, le solite cose incredibili del nostro fisco, che mi fanno venire il sangue al cervello, perché questo è il lavoro non retribuito, non quello dei ragazzini da McDonald's. Perché questo è il lavoro dei commercialisti, per fare il loro mestiere, devono stare ore e ore a dare le loro informazioni, dei loro clienti, su un sito internet del pubblico, dello Stato che noi paghiamo, e non funziona. E quando dice, fai scartato, io sono stato un'ora a dare i dati dei miei clienti, cosa ho fatto in quell'ora? Ho fatto un lavoro non retribuito, sono uno schiavo, uno schiavo della burocrazia digitale. Vabbè, detto questo, uno legge oggi il Sole 24 e dice, finalmente il Sole 24 Ore il giornale che copia ancora i commercialisti la vede, se ne occupa, certo, molto in ritardo rispetto agli altri giornali, e fa spesometro ancora in tilt, che è un dato fattuale. Poi io tutto contento, dico, finalmente il Sole 24 Ore fa la battaglia per la sua constituency, come è giusto che faccia. Vado a vedere pagina 2 e c'è un pro e un contro. Perché lo spesometro è utile e perché lo spesometro è inutile. Ma io dico, ma dove vivo, no? Ma io dico, ma vi rendete conto che lo spesometro è una cagata pazzesca in termini, diciamo, legislativi? E nella sua applicazione pratica è stato un disastro! Ma come si fa ancora a discutere, serve o non serve? Voi dovreste fare una battaglia contro l'idea stessa che esista lo spesometro. E non la fate, perché siete vittime dell'Agenzia delle Entrate. Una volta che non fate questa battaglia, lo spesometro non funziona, manda in tilt la vita dei commercialisti e non vi lamentate! E fate ancora il pro e il contro! Siete al servizio dei vostri lettori o dell'Agenzia delle Entrate? Cari amici miei del Sole 24 Ore, io leggo per fortuna Italia Oggi. Italia Oggi, Marino, Longoni, straordinario, fa un pezzo in cui dice è l'eredità della Orlandi, è l'eredità di quell'idea per cui tutti noi contribuenti siamo per default dei ladri e quindi fa un pezzo come normale che sia tagliato per una delle defiance più grandi della nostra comunicazione digitale. Bello il pezzo sull'avenire di Ferdinando Camon sulla strage, sullo stragista di Las Vegas, l'uomo senza Dio che spara perché si sente Dio. Devo dire che il pezzo è scritto bene e mi ha interessato, così come è bello il pezzo di Ferrara che dice il problema non sono le armi sul foglio, basti pensare che Svizzera e Canada ne hanno altrettante ma la loro popolazione non sembra che si spari con la frequenza degli americani. Travaglio sfotte, boccia, ma anche in questo caso, lo sapete come la penso io su Confindustria che la considerano una associazione inutile, non a delinquere come sembra quella consiglia di Travaglio, ma Travaglio dice davanti alla loro foto degli uomini della Confindustria io mi immagino le sirene della polizia, dei carabinieri e della finanza come se fossero nel cortile di aria per l'aria aperta di un carcere. Beh, insomma, adesso non è che si può proprio dire tutto di tutti, cioè io voglio dire ho sfottuto Gramellini, sfotto la Confindustria, però adesso dire che tutta la Confindustria sia fatta di persone che deve andare in galera forse, forse è un po' esagerato. Poi certo Travaglio prende le sue posizioni sul fatto che il codice, secondo lui, antimafia, è una cosa che già c'era, anzi serve a poco. Insomma, devo dire che forse è meglio che si confronti con qualche giurista che lui ama tanto, ma non so, da Flick a migliaia di altri professori universitari, a Nordio, a altri giudici che hanno detto che è un disastro. Paduan in quattro anni ha creato un milione di posti di lavoro e per fortuna che era una puttanata di Berlusconi quella del milione di posti di lavoro, sempre un milione sono i posti di lavoro, sempre tutti i politici riescono a farli. Quando diceva Berlusconi abbiamo riso per vent'anni, se lo dice Paduan, con questa sua rietta là, no, un po' da Ox, siamo tutti d'accordo. MDP se ne vota contro a una risoluzione che dovrebbe essere allegata al documento economico e finanziario, aprono tutti i giornali, è la scissione dell'Atomo, anche perché Pisapia, che me lo rimanginavo, in EBDP invece vota per il governo, insomma una strozzata. Come sempre D'Alema si utilizza i suoi piccoli artigli invidiosi nei confronti di un governo che non ama per farsi le sue piccole battaglie. Detto questo a me non me ne frega niente il governo, non me ne frega ancora di meno verso una legislatura che è destinata a finire presto, quindi chi se ne importa. Detto questo i giornali parlano della scissione dell'Atomo come fosse da premio Nobel. Segnalo, apro la parentesi, chiudo la parentesi, tutti contenti perché ci sarebbe anche un po' un italiano nel Nobel per la fisica, anche perché i giornaloni sono stati molto spinnati, gli hanno dato molto informazioni a quelli del PT perché è il segretario del PD americano. Vabbè, con tutto è questa, siamo fritti perché questa sera ci sarà Matrix alle 23.20, insomma venite numerosi a vederlo. Ciao!